Non è ancora partito il servizio degli Asacom per molti studenti disabili dei licei trapanesi. Questa mattina di fronte al Palazzo del Libero Consorzio Comunale si è tenuta una manifestazione che ha visto la collaborazione di ACA Sicilia, famiglie e operatori. Buongiorno, bentrovati. Questa è la nostra notizia d'apertura. Guardiamoci il servizio. Sono sempre più ridotti gli stanziamenti e le previsioni di spesa delle pubbliche amministrazioni nei confronti del servizio Asacom nelle scuole. E così, per l'anno scolastico appena iniziato, alcuni studenti disabili hanno subito una riduzione del servizio, mentre ad altri non è ancora partito. I genitori e gli operatori Asacom non ce la fanno più e questa mattina si sono riuniti a Piazza Vittorio Veneto per chiedere chiarezza e per manifestare contro le scelte del Libero Consorzio Comunale. Gli operatori hanno avuto un contratto con scadenza il 30 settembre. La stessa scadenza è stata applicata ad alcuni servizi di assistenza all'autonomia e comunicazione e gli aventi diritto attualmente sono senza servizio. Questo significa interruzione di servizio pubblico e in altri casi, credo, siano 67. Anche mancato avvio del servizio dal primo giorno di scuola. Oggi si chiede di realizzare quello che è il compito dello Stato, soprattutto accanto ai più deboli, e di non sacrificare i diritti incomprimibili sull'altare delle esigenze di bilancio. Già qualche giorno fa avete incontrato il commissario del Libero Consorzio. A che punto si è arrivati? Abbiamo incontrato una dirigente, la dottoressa Verghetti, si è resa disponibile al dialogo ed è per questo che chiediamo un nuovo incontro proprio a partire da oggi in modo tale da fissare quelli che sono i paletti per l'erogazione del servizio durante tutto l'anno scolastico. è chiaramente un servizio agli alunni con disabilità. L'anno scolastico ha un inizio, è segnata la data di settembre, ha una fine, è segnata la data di giugno. Non è pensabile che le famiglie ogni fine mese debbano ancora aspettare la conferma dello svolgimento regolare del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Una breve pausa, torniamo con tutti i titoli e tutti i servizi. La rabbia dei vivi, il dolore di Simone Romano che da due mesi attende di dare una degna sepoltura al padre. L'assessore la porta, a breve risolveremo il problema. Il ricordo delle vittime del 3 ottobre, anche a Valderice una breve cerimonia in memoria di una delle più grandi stragi del Mediterraneo. La proposta della Ciminisi, la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul recupero del reddito Brascia e ipotizza la collocazione della nave romana nel territorio di Misilisceni. Note d'eccellenza, si è chiusa la 75esima stagione estiva del luglio musicale trapanese che per ben quattro mesi ha animato la città. Cinque vittorie consecutive, questo è il titolo di sport. Il pensiero del presidente della polisportiva Trapani, Valerio Antonini, ha commentato il momento delle Trapani Calcio. Domani il turno infrasettimanale al provinciale contro la Real Casalnuovo. Trapani Liberti, nell'approfondimento delle 14.20, Lina Novara ci racconta lo stile floreale arrivato in città grazie a grandi architetti come Francesco Lagrassa. Ancora ben trovati. E' ancora emergenza sepoltura al cimitero di Trapani e sono circa 30 le salme chiuse in un deposito in attesa di sepoltura. Vediamo il servizio. Circa una trentina di bare ha accatastato in un garage all'ingresso del cimitero di Trapani. Da mesi sono lì in attesa di tumulazione. La puzza che arriva dall'esterno della struttura è insopportabile. Da settimane la serranda del deposito è stata abbassata. Nessuno può accedere. Impossibile portare un fiore ai propri cari. Il dolore e la rabbia dei familiari si scontra con le lungaggini burocratiche. L'angoscia di Simone Romano, che da circa due mesi, è in attesa di donare alla salma del padre una degna sepoltura. Che lì dentro non si può neanche accedere in quanto la puzza è enorme, lì si prende solo la malaria. Come si vuol dire tifo. Tra l'altro sabato, un dieci giorni fa, la salcinesca era chiusa con un cartello messo chiuso per igienicità. Cioè non possono chiudere senza essere autorizzato da qualcuno. Un voglio solo messo in bianco con un timbro, né un timbro né una firma da nessuno. Chiudo la salcinesca e nessuno può accedere per andare a vedere i defundi. Non è possibile poter mettere un fiore ai defundi, proprio di far perdere la dignità umana, al cimiteo di Trapani, che è proprio uno schifo. Io voglio e otterrò qualcosa in merito a mio padre, perché mio padre non deve rimanere dentro tre mesi. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore del comune di Trapani, Giuseppe Laporta. Mi auguro che in settimana i lavori possano finalmente essere avviati, dice. Purtroppo le lungaggini burocratiche hanno contribuito a creare questa situazione. Proprio questa mattina ho sentito l'ingegnere Ala e il problema a breve dovrebbe essere risolto. Aggiungo che è scaduto il bando con la vecchia ditta, abbiamo dovuto procedere con una nuova gara d'appalto. Ciò ha comportato l'allungamento dei tempi, la burocrazia ha fatto il resto. Voglio però rassicurare tutti, ci stiamo impegnando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. E veniamo alla cronaca. Si è allontanato più volte dalla comunità. Scatta l'aggravamento della misura cautelare per un sedicenne sorpreso a confezionare droga. Vediamo. Si sarebbe allontanato più volte dalla comunità di recupero dove era stato ospitato dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a confezionare dosi di droga. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare del Golfo in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo. Il giovane nel luglio scorso sarebbe stato sorpreso dai carabinieri di Trapani all'interno del locale caldaia di una palazzina del quartiere Fontanelle intento a confezionare dosi di sostanza stupefacente. All'esito della perquisizione venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro crack, ascisce e banconote di vario taglio per oltre 700 euro. A seguito dell'arresto il sedicenne veniva collocato in una comunità di recupero di Castellammare del Golfo dalla quale più volte si sarebbe allontanato in violazione delle prescrizioni imposte. E voltiamo decisamente pagina nel piccolo cimitero di Valderice questa mattina un minuto di preghiera per le vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. Vediamo. Era il 3 ottobre del 2013 quando a largo dell'isola dei Conigli a Lampedusa si consumò una delle più grandi stragi del Mediterraneo. Un barcone carico di migranti, quasi tutti provenienti dall'Eritrea partito dalle coste della Libia, si inabbissa. 368 le vittime, tra cui molte donne e bambini. Le immagini terribili delle bare accatastrate in un hangar e il dolore dei 115 sopravvissuti spaccarono il paese riaccendendo i riflettori sul dramma dei profughi. Uomini e donne in fuga alla ricerca di un futuro migliore. Il 3 ottobre è il giorno del ricordo, ma non solo. È la giornata della memoria e dell'accoglienza. Dieci anni dopo, poco o nulla è cambiato. I proclami dei vari politici che all'epoca si ritrovarono sull'isola sono finiti nel dimenticatoio. Dieci anni dopo, nel Mediterraneo si continua a morire. Questa mattina, di fronte alle tombe di alcune di quelle vittime che riposano al cimitero di Valderice, si è svolto un momento di preghiera al quale ha preso parte anche il sindaco Francesco Stabile. E adesso per noi una breve pausa. Torniamo presto. La proposta della Ciminisi, la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul recupero del relitto Brascia e ipotizza la collocazione della nave romana nel territorio di Misiliscemi. Note d'eccellenza, si è chiusa la 75esima stagione estiva del luglio musicale trapanese che per ben quattro mesi ha animato la città. Cinque vittorie consecutive, questo ovviamente è il titolo di sport, il pensiero del presidente della Polisportiva Trapani, Valerio Antonini, che ha commentato il momento del Trapani Calcio. Domani il turno infrasettimanale al provinciale contro la Real Casalnuovo. Ancora ben trovati. Torniamo ad occuparci del recupero del relitto della nave romana nel mare di Marausa. L'onorevole Cristina Ciminisi ipotizza una collocazione nel territorio di Misiliscemi nei pressi dei luoghi del ritrovamento. Vediamo. Sono in corsa a Marausa i lavori di recupero del relitto della nave oneraria romana, ma non ci sono ancora da parte della regione siciliana indicazioni sulla sua futura collocazione, benché la questione sia stata anche oggetto di un'interrogazione della deputata trapanese del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminisi. Nell'atto ispettivo Ciminisi chiede di conoscere il futuro del reperto, tenuto conto che ci sono voluti più di vent'anni per indicare nei Baianselmi di Marsala il luogo di musealizzazione della nave oneraria individuata nel mare di Marausa nel 1999, mentre parte di quel carico di anfore è al Museo Pepoli di Trapani. La comunità di Misiliscemi ha sottolineato Cristina Ciminisi si chiede se per questo secondo relitto di grande importanza storica archeologica sia stata presa in considerazione l'ipotesi di una collocazione museale proprio a Marausa, favorendo così la valorizzazione storica e culturale dei luoghi dei ritrovamenti, anche in una prospettiva di sviluppo turistico. La regione siciliana, ha continuato la parlamentare del Movimento 5 Stelle, dovrebbe prendere in esame la collocazione delle navi di spazi idoni a Marausa, tenendo anche in considerazione il fatto che la comunità misilese ha già dovuto rinunciare, nonostante le istanze dell'epoca, al relitto del 1999. Cristina Ciminisi ha quindi immaginato la collocazione della nave nel complesso edilizio all'interno del parco del Baglio Marausa. Si è chiusa la 65esima stagione estiva dell'eluglio musicale trapanese che con la direzione artistica di Walter Roccaro e la gestione del consigliere delegato a Natale e Petra Fitta ha animato la città di Trapani per ben quattro mesi a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre. Vediamo il servizio. Quattro mesi in cui fra il Teatro Giuseppe Di Stefano e il Chiostro di San Domenico si sono avvicendati opere con certi spettacoli di danza. Tantissimi gli artisti ospitati da un'edizione che ha visto protagonisti importanti artisti. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchi dell'assessore alla cultura Rosalia Dalì hanno evidenziato come quest'anno la stagione si sia rivelata di ottimo livello riscontrando il gradimento del numerosissimo pubblico ma anche l'occasione per comunicare messaggi importanti e valorizzare le eccellenze artistiche del territorio. Il primo cittadino e l'assessore alla cultura hanno tenuto a ringraziare il pubblico affezionato gli artisti e tutto lo staff il management e tutti gli operatori dell'Ulio Musicale Trapanese che hanno reso possibile tutto ciò rimarcando come l'Ulio Musicale Trapanese sia una realtà viva vivace che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere. Il consigliere delegato dell'Ulio Musicale Trapanese Natale Pietrafitta si è soffermato sulle produzioni di altissima qualità grazie alla dedizione dello staff sottolineando come il teatro sia stato un luogo di luce in questa città nonostante questi tempi difficili un luogo in cui sono state condivise emozioni e storie. Il direttore artistico Walter Roccaro ha quindi rimarcato l'importanza della varietà dei generi presentati dando spazio significativo all'opera non trascurando al contempo i concerti sinfonici anche con la presenza di illustri solisti la cameristica e la danza sottolineando come ruolo fondamentale di un ente di produzione musicale sia quello di colmare il più possibile la distanza rispetto alle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità dei contenuti artistici proposti un dialogo costante e costruttivo quindi tra tradizione e innovazione che salvi la musica e il teatro musicale dal rischio di estinzione. Travel and Taste Elymos esplorando i sapori autentici del territorio nel servizio capiremo meglio di cosa si tratta. Travel and Taste Elymos ha organizzato una giornata dedicata ai prodotti alla cultura gastronomica locale l'evento si terrà giovedì 5 ottobre dalle 9 alle 15 presso il Casale Tasta ad Alcamo in programma ci sono una serie di cooking show con la partecipazione di rinomati chef e produttori locali guidati dalla presentatrice Vittoria Benante i produttori metteranno a disposizione i loro migliori prodotti per creare piatti tradizionali che esaltano i sapori autentici gli chef Peppe Giuffré Andy Luotto e Pino Maggiore condurranno un viaggio culinario l'evento culminerà con una degustazione di menù abbinati a vini del territorio con cura per valorizzare ogni piatto l'evento è aperto agli istituti alberghieri e agli enti di formazione professionale offrendo un'opportunità di apprendimento e ispirazione agli studenti inoltre albergatori e ristoratori avranno l'occasione di scoprire nuovi prodotti tendenze e idee per arricchire le loro offerte culinarie Travel and Taste Elimos finanziato dall'omonimo Gall punta alla creazione di un marchio di qualità sullo turismo enogastronomico e al rafforzamento della capacità competitiva agricola e turistico del territorio del Gall Elimos partendo dall'agricoltura e la produzione alimentare locale fino ad arrivare alla ristorazione Il territorio Gallerimo scomprende Buseto Palizzolo Calatafimi Segesta Castellammare del Golfo Cusso Naci Erice Favignana Marsala Area Stagnone Pantelleria San Vitolo Capo Trapani Valderice Evita E per la programmazione sulla nostra emittente questa sera trasmetteremo alle 20.30 la partita tra Vigevano e Trapani Shark valevole per la prima giornata del campionato di serie A2 alle 23 invece andremo nel match di pallamano tra handball ed handball eric evidentemente e mezzo corona e adesso un attimo di pausa torniamo con lo sport Per lo sport intervenuto ieri alla prima puntata della nuova stagione di Sport Sud il lunedì il presidente della polisportiva Trapani Valerio Antonini ha fatto il punto tra le altre tematiche sul momento del Trapani Calcio che domani scenderà in campo al provinciale per il turno infrasettimanale con la Real Casal Nuovo ecco cosa ha detto in vista della gara e dei prossimi impegni sentiamo Presce che ti aspetti da questa partita di mercoledì oltre alla vittoria ovviamente ma io mi aspetto un po' di cambiamenti credo che abbiamo perso Bollino per un po' di tempo esatto mi chiedevano di Bollino quindi insomma di fortuna di ieri almeno 20 giorni non ce l'avremo quindi non possiamo rischiare di perdere altri giocatori per affaticamenti che abbiamo visto in queste ore quindi io penso che ci sarà un po' un cambio di modulo vediamo si sta ragionando io vorrei che si giocasse questa partita per fare la nostra il prima possibile per poi risparmiare un po' di forze per la partita di domenica io mi aspetto 5 vittorie consecutive adesso perché noi dobbiamo arrivare alla partita di Reggio Calabria per dare un po' il colpo finale io credo che oggi cerchiamo di essere anche abbastanza onesti con noi stessi abbiamo adesso 4-5 partite dove obgettivamente siamo più forti quindi io è vero che vincere fuori casa abbiamo visto non è facile perché questi sono campacci però voglio dire la squadra è dotata del miglior centravanti del torneo secondo me per distacco la coppia centrale difensiva più forte del campionato perché Cristini e Sabatino sono dei giocatori di serie C alta abbiamo a quadro che potrebbe giocare tranquillamente nella serie C abbiamo altri ragazzi veramente forti in tutto questo Ucai è un ragazzo importante che sta crescendo bene eccetera voglio dire io mi aspetto oggettivamente una serie di risultati che ci portano a Reggio Calabria con la convinzione di essere i dominatori del campionato poi imponderabile c'è però io onestamente domani mi aspetto che sia una partita che al 60esimo 65esimo possiamo riposare un po' e per il basket torniamo alla vittoria della Trapani Shark alla prima di campionato con Vigevano Andrea Renzi fa un'analisi della gara e del momento vediamo ma sicuramente è una partita molto difficile Vigevano una squadra molto tosta soprattutto fisicamente allenata molto molto bene e credo che insomma farà un campionato da protagonista soprattutto in casa noi da parte nostra non siamo sicuramente partiti molto bene nei primi due quarti è stato molto importante avere una reazione comunque positiva rimanere uniti e ottenere questa prima vittoria in campionato che ci permette di guardare al futuro con una discreta serenità pronti per la prossima in casa allora io credo che insomma la differenza durante la stagione la faremo soprattutto in difesa la nostra coesione la nostra fisicità la capacità di essere concentrati nell'arco di tutti i 40 minuti deve essere un nostro marchio di fabbrica è importante che lavoriamo bene in settimana che lavoriamo bene tutti insieme e che come squadra cerchiamo di raggiungere l'obiettivo questa sera comunque ce l'abbiamo fatta e siamo contenti come ho detto soprattutto nella seconda parte di gara togliere le penetrazioni a Smith è stata sicuramente una parte importante ma credo che lo step importante sia stato quello mentale lo stile Liberty ha da sempre caratterizzato Trapani grazie ad alcuni dei più noti progettisti come Francesco Lagrassa e Giuseppe Manzo proprio da qui parte uno studio a cura di Maria Antonietta Spadaro e di Lina Novara capace di restituire le tracce e le testimonianze di un gusto e di un'epoca davvero speciali abbiamo ascoltato la professoressa Lina Novara questa è anche l'ultima notizia per oggi io mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione e ci guardiamo il servizio Trapani Liberty si tratta di un libro pubblicato e presentato nei giorni scorsi Liberty a Trapani quanto è importante? Il Liberty a Trapani è importante perché abbiamo diverse manifestazioni che troviamo sia nel centro storico che fuori della città di Trapani abbiamo avuto un grande protagonista che è Francesco Lagrassa allievo di Ernesto Basile il quale ha creato la Casina delle Palme il Palazzo delle Poste Palazzo Montalto tutti edifici che rispecchiano proprio il gusto Liberty Francesco Lagrassa era stato allievo di Ernesto Basile e quindi diciamo che questi edifici rispecchiano anche lo stile proprio del Basile che è uno dei massimi esponenti del Liberty in Italia e poi anche in Sicilia Ecco questo libro da dove nasce? Qual è l'idea? Il Liberty a Trapani nasce 30 anni fa e nasce diciamo dalla volontà di fare una ricognizione di tutti gli edifici Liberty che si trovavano a Trapani e che si trovano a Trapani qualcuno è scomparso o qualche piccolo elemento non lo troviamo più comunque dicevo è nato dalla volontà di far conoscere il Liberty ed è nato 30 anni fa da un'idea mia e di Maria Antonietta Spadaro con la quale ho pubblicato sia il Liberty a Trapani che è Trapani Liberty quindi 30 anni fa abbiamo fatto questa ricognizione un libro che oggi non è più in edizione e che aveva bisogno di essere rivisto e rimodulato ci sono ci sono tanti edifici Liberty a Trapani alcuni famosi come la Casina delle Palme il Villino Nasi ma nel suo libro si racconta anche di qualche Villino Liberty che tuttora comunque non è molto conosciuto quale ad esempio ma si parla di Villini come lei diceva Villino Nasi Villino che hanno ricevuto è la Villa Laura è una villa che è stata fatta costruire da Giuseppe Dalì e porta il nome della figlia Laura è stata costruita nel 1909 su progetto sempre di Francesco Lagrassa come dicevo il massimo esponente del Liberty di Trapanese in quel Villino Lagrassa aveva creato un connubio tra architettura e decorazione soffermandosi su molti elementi floreali e soprattutto utilizzando diversi materiali che poi è la caratteristica del Liberty ha usato il ferro battuto ha usato le mattonelle e poi i decori floreali come dicevo purtroppo questo edificio ha subito dei danni durante gli eventi bellici e altri danni nel corso del tempo ma ci sono delle foto d'epoca che testimoniano proprio lo splendore di questo edificio la ricchezza decorativa e quindi anche l'esplosione del Liberty